Lo sai che ogni segno zodiacale ha il suo make up ideale? Chi crede a un briciolo nell'oroscopo potrebbe trovare interessanti e curiose le cose che sto per raccontarvi. Secondo gli astri ogni segno zodiacale ha il suo colore portafortuna. Vi svelo qualche curiosità sulle armi vincenti di ogni segno zodiacale. La rete per conquistare tutti e per far scoppiare il suo carattere forte e deciso potrà puntare su un bel rossetto rosso. Il toro invece può puntare sul suo sguardo e renderlo ancora più ammaliante e seducente con un mascara ultra black. Al gemelli piace giocare quindi quale idea migliore se non quella di un bel contouring, un bel gioco di luci ed ombre per valorizzare le forme del viso. Al cancro invece che ama la dolcezza servirà un bel gloss per stampare baci a tutti. È arrivato il momento del leone, il segno dal lego fortemente pronunciato. Per tutte coloro nate sotto questo segno di fuoco è consigliato un make up con le tonalità dell'oro. Tutte coloro nate sotto il segno della vergine possono puntare su colori ruggine e bronze per gli occhi, mentre il segno della bilancia sceglierà colori pastello. L'arma di seduzione dello scorpione è lo sguardo, quindi un bel eyeliner, una linea perfetta che allunghi lo sguardo è l'ideale. Sagittario invece è un leader, quindi per rendere più profondo ed intenso lo sguardo può puntare su un ombretto marrone ed un bel mascara. Capricorno è un segno molto ambizioso. I colori zodiacali scelti per questo segno sono colori scuri ed intensi come porfora, bordeaux, viola. Tutte coloro nate sotto il segno dell'acquario sono originali e indipendenti, proveranno a sorprendere tutti facendo credere di non essere truccate. Quindi qual è il colore zodiacale per questo segno? Colori nude. È blu il colore invece di tutte coloro nate sotto il segno dei pesci. Possono puntare su una matita, su un eyeliner, su un ombretto, su un mascara blu o azzurro e il loro make up ideale è proprio quello. Grazie a tutti.